Una grande festa per rilanciare un'idea di carnevale popolare, autenticamente ancorato alle radici antiche della tradizione contadina. Questa festa che abbiamo fatto qui a Roma, a Tarantella del Carnevale, ha raccolto centinaia di musicisti, danzatori, cantori, provenienti da vari comuni della provincia di Avellino e anche l'orchestra e il coro popolare diretto da Narita Cologiani. Un'occasione importante per stare insieme, per vivere il senso più profondo del carnevale, che è una festa di rinnovamento, una festa di gioia, una festa in cui un tempo la natura passava dall'inverno alla primavera, da una condizione di grigio alla condizione di colore. Questo è il segno più forte che abbiamo dovuto raccontare qui in Auditorium, dove da tanti anni oramai abbiamo questo desiderio di portare l'Italia autentica, l'Italia dei piccoli paesi, l'Italia degli appennini, delle isole, delle Alpi, che ancora vive la musica popolare come un segno di grande identità e di appartenenza. Grazie. 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 Grazie.